buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale ragazzi ora faccio questo brevissimo video augurale io curale di un di un felice e sereno 2022 quindi per tutti e rimanete qua e guardatelo fino in fondo perché adesso metterò la clip dove ringrazierò tutto il quadro dirigenziale il pisa sporting club dopodiché ho selezionato qualche rete dei nostri ragazzi insomma quelle che mi sono sembrate più più belle ecco poi vabbè sono tutte belle né più né meno però ma quelle che forse ma sono state quelle forse più belle durante questo campionato di andato 2021 bene niente io ringrazio pisa news ringrazio tipo pisa che sono gli sponsor della trasmissione noi siamo nero azzurri quindi parte nel ufficial dopo di che ringrazio tutti veramente grazie degli iscrizioni di seguirmi di commentare insomma di stare vicini al canale perché il canale ne ha veramente veramente bisogno per crescere va bene ecco quindi veramente grazie grazie di cuore grazie di cuore a tutti quanti nessuno escluso e niente ci vediamo a breve nel 2022 va bene io questo è solo un video di di saluti di ringraziamenti e anche insomma fondamentalmente di veramente di trovare una felicità nella sedia e nella serenità nel 2022 godetevi il video la clip fino in fondo perché secondo me ne vale la pena bene ragazzi vi rinnovo gli auguri e io vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti